Un ragazzo di origine albanese di 30 anni questa mattina ha tentato il suicidio tagliandosi con un'arma da taglio la carotide procurando una ferita molto profonda all'interno della sua abitazione a Monte Ciappellano, località di Mondolfo. Sconosciute le cause del gesto compiuto dal ragazzo, il ragazzo vive con la madre, il compagno e il fratello di 20 anni. Stando all'indiscrezione dei residenti soffriva di depressione da circa un anno. Io conosco questo ragazzo qui, si è ingrossato. Allora ieri su per la salita, lì c'è la salita dal ponte di su, a metà mi ha fermato e ti non fu più giù. Allora mi carichi sull'ape, ma sull'ape fatica, è grosso. Quando l'ha visto l'ultima volta? Ieri sera. Un ragazzo buono ed educato, meglio di così io non ti posso dire, cortese, salutava, tutto quanto. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo i medici non dovrebbe essere in pericolo di vita.